L'Avellino vuole chiudere il discorso secondo posto allo Iacovolo di Taranto domenica sera. Fischio di inizio alle 20, trasferta vietata ai residenti in Irpinia, mentre i tifosi rossoblu dovrebbero essere circa 7.000. Cornice di pubblico delle grandi occasioni per un Taranto che all'inizio della stagione non abbracciava così tanti sostenitori. I risultati e l'ottimo lavoro di Capuano hanno contribuito a riavvicinare il popolo tarantino con la squadra della città. Il tecnico di Pesco Pagano non avrà Riggio squalificato dopo il gran gol da centro campo in casa del Monopoli e punterà su Bomber Canutè, ex di turno con 13 reti messe a segno. L'Avellino, dal canto suo, sa che non sarà una gara semplice con l'atteggiamento del Taranto che sarà quello di aggredire e ripartire. Non a caso la terza difesa del torneo, quella Ionica, e sarà difficile fare breccia nella difesa guidata da un altro ex Mirko Miceli. Per quanto riguarda la probabile formazione bianco-verde, pazienza, che domani mattina terrà la sua consueta conferenza stampa, non dovrebbe sconvolgere gli equilibri e non dovrebbe cambiare molto. L'unica novità potrebbe essere rappresentata da Lorenzo Sgarbi, match winner col Benevento al posto di Gori al fianco di Chico Patierno. Il numero 9 dei Lupi insegue il titolo di capo canoniere al momento a pari merito con Murano. Guidotti in porta, Cancellotti Cione che frascatore in difesa, Ricciardi e Liotti sulle corsie, Mondausilio e Rocco in ballottaggio per affiancare Armellino e De Cristofaro in mediana.